Ancora un'altra regolamentazione della viabilità nella zona di via Necropoli del Fusco. La prossima settimana infatti inizieranno i lavori della Siam finalizzati ad eliminare alcune problematiche di natura igienico-sanitaria e di viabilità nella zona. Per questo motivo dalle 7 di lunedì 28 settembre alle 18 di venerdì 16 settembre la circolazione veicolare nell'area interessata avrà quindi una nuova regolamentazione. Viene infatti istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione coatta a ambo i lati in vicolo al Viale Paolo Orsi. E' disposta la chiusura parziale della rotatoria Columba Ermocrate con deviazione dei veicoli provenienti da Via Lermocrate, quindi lato stazione, con uscita a sinistra della rotatoria Columba Ermocrate. E' la deviazione dei veicoli provenienti da Via Columba con uscita a sinistra della rotatoria, quindi Columba Ermocrate, con obbligo di dare precedenza. I veicoli invece provenienti da Via Necropoli del Fusco giunti in corrispondenza della rotatoria Columba Ermocrate avranno l'obbligo di proseguire per Via Columba.